il momento ma che è una rapina ecco il nostro uomo nick 1729 il luogo non sei nick la persona sbagliata il buffo vuole vederti il buffo non sono quello che cercate io non abito qui tutto che fai mi chiamo se lei lo sa che cosa voglio da lei mi scusi ma lei chi è io sono il come l'impressione che lei abbia l'impressione che io le devo 96.000 dollari fottuto mettete le scarpe l'uomo vuole vederti sai perché sei stato portato qui ma non sono nick fisher e chi diavolo sei uno nel posto sbagliato al momento sbagliatissimo tu mi devi dei soldi io li devo a qualcuno tu devi loro dei soldi c'è un uomo che chiamano il boss giusto e poi nel palazzo di fronte c'è un uomo che chiamano il rabbino perché lo chiamano il rabbino perché è un rabbino charlie chaplin partecipò concorso per sosia di charlie chaplin a monte carlo e arrivo terzo quella è una storia assurda forse ti sembra che sia così e allora smith non capisco che cosa c'entra nick fisher perché è lui ti l'ho già detto non sono nick fisher slevin patto criminale dal 25 agosto al cinema